Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Amaci Casi Italia, ci troviamo oggi in provincia di Catania, siamo a San Giovanni La Punta e siamo da Immagini by Capanè, in via Giuseppe Motta, numero 63. Quella che stiamo vedendo è una cucina nella lube, stiamo parlando del modello agnese, è un modello interessante innanzitutto per, diciamo che l'essenza che stiamo vedendo è l'essenza frassino e ha questa parte bassa che voi vedete, che è fatta con una tinta che si chiama argilla decapè, che è veramente gradevole, molto piacevole. La parte alta invece è stata spezzata dal rivenditore, da Immagini by Capanè, con un frassino tinto bianco. Poi la composizione che ci sta proponendo il mobiliere è una composizione che ci vede, da un lato questa piccola, questa piccola colonna forno che ci permette di vedere all'interno la cottura delle pietanze. Poi stiamo vedendo che ci è stata proposta questa cucina d'angolo veramente piacevole e devo dire che questi pensili che hanno questa parte a vetro completano la composizione. È veramente gradevole e piacevole. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.